Benvenuti alla resigna stampa di oggi martedì 17 agosto 2021 sul canale 17 di Fano TV visibile in tutta la regione Marche sul digitale terrestre c'è occhio ai giornali come sempre il commento alla stampa del giorno abbiamo selezionato per voi anche questa mattina le nostre pagine di giornale resto del carino Corriere Adriatico buongiorno ovviamente a coloro che ci seguono per la prima volta mi riferisco ai turisti che sono ospiti nella nostra magnifica e splendida regione Marche e allora iniziamo dal santo di oggi poi vediamo il tempo e i collegamenti con le nostre spiagge allora Santa Chiara della Croce siamo in Umbria vergine dell'ordine degli eremiti di Sant'Agostino poi il sole che sorge sorto alle 6 e un quarto e tramonterà ahimè sempre prima alle 20 e 10 oggi previsione è un po' particolare perché dobbiamo dire che insomma non tutti i siti sono concordi su quello che quello che sarà nella giornata di oggi dal punto di vista meteorologico noi comunque ci affidiamo e ci fidiamo delle previsioni del tempo della protezione civile delle Marche che per oggi prevede come vedete delle precipitazioni al mattino rovescio temporali più probabili al nord nella parte settentrionale della nostra regione al pomeriggio poi questi temporali si sporteranno verso centro-sud i fenomeni diventeranno anche più estesi ma soprattutto intensi in particolare sui settori collinari e montani centro-meridionali questa è la fotografia di oggi poi tutto ricambia di nuovo torna il bel tempo vedete questo è mercoledì e venerdì il tempo sarà stabile per tutto il resto della settimana ma quello che è importante per oggi è non farsi cogliere impreparati magari non pensare guardando il cielo che tutto è bello tranquillo quindi andiamo sereni perché all'improvviso potrebbe arrivare il temporale magari non uniforme come avviene spesso d'inverno ma a macchia di leopardo considerate che le temperature fino a ieri insomma erano molto elevate quindi c'è molto caldo al suolo e questa goccia fredda potrebbe fare creare qualche problema insomma ecco pensiamoci e non facciamoci prendere la sprovvista questo è il messaggio anche della protezione civile delle Marche che vedremo tra poco intanto andiamo a salutare il nostro ospite che ci tratterà compagnia questa settimana ci siamo giocati il lunedì perché ieri non c'erano i giornali in edicole quindi la rassegna stampa non è andata in onda però partiamo oggi martedì con Giovanni Dallago che si trova niente meno che a Fano nella zona diciamo più a nord della città di Fano perché è una spiaggia particolare ce la vuoi raccontare tu Giovanni? Buongiorno intanto, ben arrivato Sì grazie, buongiorno a tutti siamo qua in spiaggia e stiamo incominciando i preparativi per la settimana più importante della stagione Ecco voi siete animalido che già di per sé spiega un po' che cos'è i fanesi lo conoscono bene ma diciamolo a quelli che ci seguono dal resto della regione Sì è una spiaggia completamente dedicata agli animali nata proprio dai loro bisogni quindi da tante piccole accorteste che servono per far stare bene i nostri concittadini ma anche i sempre più turisti che cercano questa città anche per queste peculiarità Ecco voi siete operativi da molto tempo Giovanni, quanti anni avete? In realtà è una cosa abbastanza giovane, questa è la quinta stagione Pensavo di più, me lo ricordavo un po' più vecchio come progetto in realtà no, quindi cinque anni ma comunque in questi anni siete sempre cresciuti insomma appunto come dicevi c'è molta gente che vuole andare in vacanza e anche in spiaggia però ci sono delle regole immagino anche se uno ha degli animali magari ce le racconterà nei prossimi giorni, nei prossimi collegamenti così conosceremo meglio questa spiaggia che come dicevi è frequentata un po' da gente da tutta Italia Sì, abbiamo soprattutto quest'anno oltre ai numerosi stranieri diciamo di passaggio ma abbiamo anche molte persone che ci hanno scelto proprio da tutta Italia quindi siamo veramente felici di questa cosa Allora per chiudere ti chiedo velocemente di farci una panoramica veloce con il tuo cellulare per farci vedere un po' questa spiaggia, vedo il mare sarà mosso oggi che dici delle previsioni del tempo? Allora in realtà per adesso sembra tutto perfetto condizioni meteo ottimali forse un pochino più fresco di ieri ma neanche tanto non c'è una nuvola intorno quindi a parte sorprese che come dicevate prima potrebbero esserci però sembrerebbe tutto veramente una giornata proprio da passare al mare Bene, vediamo dai Ok, allora ci vediamo domani Grazie Giovanni, buon lavoro a te e anche ai tuoi ospiti anche a quattro zampe ovviamente gli ospiti che sono i benvenuti nella spiaggia Animalido Allora noi adesso invece andiamo a vedere i giornali i giornali che questa mattina sono di nuovo in edicola il Carlino di Pesero che titola in apertura, anzi la fotonotizia è per un episodio di cronaca botte da orbi in spiaggia, un giovane picchiato dal branco, pestaggio sotto il sole questi sono momenti, momenti in cui appunto c'è stato questo pestaggio avvenuto nel pomeriggio di ferragosto nella foto si vede il ragazzo a terra colpito dal branco, il ragazzo a terra forse ecco riuscite a individuarlo lì le altre notizie invece, l'apertura è per la chiusura di un locale la chiusura è avvenuta su disposizione delle autorità per la folla e per la musica sotto monte, ferragosto, sopra le righe, stangato il Maya Bay multe e tre giorni di stop all'attività poi pronto soccorso, fuga dei medici, ne servono 46, ne resteremo in 27 mentre un'impresa raccontata dal giornale questa mattina di un pesarese che vince l'ultramaratona da 250 km in Transilvania sotto invece a Cagli un'auto si sfrene e precipita nel fiume attimi di paura sulle rive del Bosso, per fortuna i bagnanti erano distanti mentre il basket raduno WL e mercato occhi sull'altro Williams poi visite mediche e test in vista del ritiro ad Ancona invece vedete la fotonotizia fiamme dal canino di Ancona, fiamme e terrore ma siamo a Senigallia, un mega incendio vicino alle case e vicino all'ospedale poi l'ultimo bagno, il malore e la morte tragedia Porto Novo, un turista biellese di 38 anni senza vita in acqua l'accompagna in ospedale per lo shock ed ecco queste, vi chiedo scusa le immagini non siamo riusciti a lavorarle ma comunque siamo a Senigallia, questo è un nostro reporter che ci ha inviato questo reportage, queste immagini, questo video nella serata di ieri ecco questo per farvi capire un attimo la situazione portate pazienza, il video non è in verticale ma insomma rende l'idea il Corriere Adriatico, la stretta all'ora del Mojito a Sottomonte si concentra alla Task Force dei controlli di Ferragosto locale multato e chiuso sulla spiaggia di Levante gli eccessi al colice dei minorenni con lettini tagliati e cabine di velta centropagine inaugurata l'area a Baia Flaminia di Pesero la riabilitazione delle tartarughe e poi Valentino Rossi, effetto ritiro tifosi in fila al fan club assalto a Tavuglia nella settimana più calda presenze da tutta Italia mentre lo Yellow Park piace e la gente apprezza questo nuovo parco tematico allora ripartiamo dalle temperature di ieri ieri nelle Marche si sono registrate temperature altissime anche sopra i 40 gradi in alcuni punti 41 anche a Fano dai 41 gradi di San Severino all'allerta gialla per il meteo picco a Ferragosto ieri 40 gradi in tre località oggi marcato calo delle temperature rovesci anche intensi Trancuna e Dascoli questo nel corso del pomeriggio come abbiamo detto poco fa poi un nuovo weekend un fine settimana molto caldo allora il bollettino della protezione civile delle Marche come abbiamo visto riferisce che arriverà un po' di pioggia sotto forma però di rovesci e temporali che potranno essere anche intensi ciò non significa che pioverà ovunque ma a macchia di leopardo come è normale per questo tipo di fenomeni poi c'è un altro aspetto che secondo me è importante ribadire per chi non lo sapesse ricordiamo conclude il bollettino che contrariamente a ciò che pensano molti allerta di protezione civile non vuol dire assolutamente si salvi chi può che succederà sicuramente qualcosa di brutto ma significa ci sono alte probabilità che accada qualcosa di serio non fatevi cogliere impreparati quindi per tutti quelli che poi ad ogni fine allerta meteo magari restano delusi perché qui non è successo niente sempre dire allerta allerta al lupo al lupo ecco le allerte meteo servono proprio a questo cioè non significa si salvi chi può significa attenzione perché potrebbe in qualche situazione esserci qualche problema quindi non fatevi trovare impreparati intanto anche il resto del carino pagina 7 quasi 38 gradi a un passo dal record storico ieri caldo infernale oggi dovrebbe arrivare una tregua Andrea Nobili dice il top a luglio del 1950 con 39,2 gradi ci siamo andati vicini quindi la temperatura dovrebbe tornare comunque nella norma possibile qualche rovescio e con questo caldo abbiamo visto i problemi sono legati soprattutto alla siccità quindi alla mancanza d'acqua e agli incendi sull'acqua la soluzione politica ma la partita la giochiamo tutti la giocano tutti l'appello dei sindaci di Cantiano e di Cagli lanciato dal sito del Burano 2 ieri abbiamo trasmesso nel nostro telegiornale Occhio alla Notizia le repliche sono questa mattina alle 11 più o meno alle 13.45 un servizio interessante proprio da questo sito dal Pozzo del Burano che vedete anche in questa fotografia con l'assessore i sindaci di Cagli Cantiano e l'assessore Simona Palazzetti che abbiamo intervistato tutti quanti allora questo sito questo Pozzo del Burano che è stato scavato 30 anni fa quasi 30 anni fa dall'Agip che perforò appunto questo Pozzo Burano 2 al confine tra i due comuni un pozzo profondo circa 300 metri ad alta pressione alimentato scrive Veronica Angeletti da una specie di bolla sotterranea che contiene acque oligominerali pregiate e su disposizione però del Comitato della Protezione Civile Provinciale per l'emergenza idrica alimenta dal 6 agosto la rete idrica peserese con 150 litri di acqua al secondo diventati poi 300 litri al secondo dall'11 di agosto e questo è il vedete il punto in cui questo dal Pozzo fuoriesce questa acqua 300 litri al secondo che serve poi per alimentare per dare acqua ai fanesi e pesaresi e quant'altro la cronaca dal Corriere Adriatico pagina 11 trovato morto dentro l'abitazione a vegliarlo la sua cagnolina tosca dolore e sciocca al porto di Pesaro per la scomparsa di Roberto Consani l'allarme nella notte tra sabato e domenica mentre da Falconara a pagina 11 dell'edizione di Ancona del giornale oggi torniamo su quelle notizie che abbiamo letto sabato scorso di questa donna di questa ragazza Enrica che è stata punta da una siringa che è stata gettata da un'auto in corsa perlomeno questa è la pista prevalente su cui anche i carabinieri si sono concentrati intanto indaga si indaga su quelle abbandonate nell'aiuola tra Via Italia e la Flaminia qui siamo sempre nella zona di Falconara ricorderete lo ha fatto appunto Enrico Enrico Schettino quando appunto la settimana scorsa al giornale ha raccontato adesso il suo calvario un anno di visite un anno di appunto di controlli per scongiurare chiaramente il peggio perché ci vuole tanto tempo per capire se quella siringa era infetta e ha provocato ha provocato qualche problema di salute a questa donna quindi ha raccontato però con molta serenità tutto quanto chiaramente con tutta l'ansia che possiamo immaginare poi da Urbino auto vola giù nel bosso affollato affollato di chili persone che erano andate lì un po' a cercare refrigerio e vedete questa fotografia allarghiamola tutta eccola qua capottata praticamente finita nel fiume dopo essere rotolata dalla strada dove era in sosta perché è finita lì perché la conducente era scesa dalla macchina nel punto della caduta per fortuna non c'erano bagnanti e non ha tirato evidentemente il freno a mano e quindi si è sentito un fruscio tra le piante poi il rumore dello schianto sulle pietre del fiume e poi tutti si sono accorti che c'era questo questo veicolo praticamente schiacciato dove poco distante c'erano anche delle persone delle famiglie dei bambini che stavano facendo un pochettino il bagno tra virgolette insomma nel fiume alla festa del duca di Urbino invece 2500 presenze Crespini dice premiate le nostre idee impegnati 40 figuranti e circa 4000 ai visitatori complessivi l'edizione più forte delle polemiche mentre sulla pagina della Valmetauro ecco l'altra medaglia sempre comunque nera di questa calura così opprimente il fuoco Cesane nel mirino Nuovorogo fiamme in una zona impervia forse causata da un barbecue distrutti un ettaro e mezzo di bosco vigile al lavoro praticamente non stop traspegnimento anche tramite aereo e bonifica per oltre 24 ore quindi 24 ore in quest'area vicino Fossombrone interessata a questo incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di Ferragosto sulle Cesane versante San Lazzaro di Fossombrone insomma è stata circoscritta grazie anche all'allarme dato quasi in tempo reale dai visitatori che si erano portati nella famosa capanna dei Folletti però sono dovute intervenire quattro squadre di vigili del fuoco e tanti altri insomma per spegnere queste fiamme poi sul teatro romano di Fano invece il comune mette sul piatto 50.000 euro andiamo adesso invece sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico il Corriere questa mattina dedica l'apertura al Festival della Fortura questa edizione canore alla sesta dopo una pausa lunga quasi 30 anni la piccola Sanremo conquista tutti questo è il titolo due giorni di musica l'arena Rastat trionfa Lucia Ciccione o Ciccone adesso ti ricordi Riccardo? Ciccone vero? mi sembrava di aver capito Ciccone non Ciccione va bene Lucia Ciccone quella canzone Donne Combattenti che ha vinto insomma tre premi se non ricordo male tre cose si è portata a casa questa Lucia Ciccone infatti nella didascalia sotto della foto il cognome è scritto in maniera corretta poi Ferragosto a Fano è andato tutto esaurito ora destagionalizzare e fare squadra è l'auspicio di Cecchini Luciano Cecchini che è il presidente degli albergatori fanesi arrivano ancora richieste per poter trascorrere qualche giorno qui in città e domenica tra l'altro a Fano lo ricordiamo c'è anche il carnevale tavolini selvaggi fioccano le multe questo è il Carlino di Fano pagina 12 assembramenti sotto controllo ma i locali si allargano oltre lo spazio autorizzato il bilancio comunque è positivo dunque si parla in questo articolo Diana Marchetti delle multe per violazione del suolo pubblico da parte di quei bar ristoranti pizzerie che si sono allargati un po' troppo diciamo rispetto alla concessione fatta poi carburanti stangata ad un distributore è un distributore che un gestore che dovrà pagare dai 2.000 ai 6.000 euro a seconda di quando deciderà di pagare la multa perché non aveva aggiornato secondo la Guardia di Finanza di Fano i prezzi del carburante poi la polemica che non si è spenta invece per quanto riguarda la bocciatura del ripescaggio insomma del Fano dalla Serie D alla Serie Lega Pro l'Alma anche 5 Stelle vogliono la testa dell'assessore Fanesi l'Alma che è esclusa dunque dalla Serie C c'è questa polemica che continua adesso anche sul fronte politico mentre da Senigallia ancora una volta parapiglia per un piatto di spaghetti sulla barca ristorante volano schiaffi un cameriere viene colpito poi il caos la titolare dice no è stato solo un equivoco ma comunque arrivano i carabinieri poi un bagnino di salvataggio insultato e spintonato allontana delle persone dall'area di lancio dei kaiti aggredito da un dipendente dell'azienda del padre poi alcuni ubriachi che sono stati trovati al volante e sono stati denunciati dalla polizia e poi c'è questa storia che arriva invece sempre da Senigallia dal resto del Carlino una storia che sicuramente farà discutere perché perché guardate questa fotografia che chiaramente è stata bollinata è stata coperta ma in originale è una foto dove ci sono tre persone tre uomini che mostrano il sedere all'obiettivo fotografico con tre ragazze e tre donne che stanno lì in posa ora che cos'è questa fotografia è una fotografia apparentemente goliardica certamente se non se non perché perché si sta facendo polemiche perché tra i soggetti adesso non stiamo a indicare quale perché chiaramente sono tutto bollinato non lo sappiamo ma comunque tra i soggetti qui c'è anche un assessore del comune di Senigallia l'assessore del comune di Senigallia che è questo signore qua sotto che si chiama Alan Calestrari assessore di Senigallia che adesso dice era uno scherzo per il matrimonio del mio miglior amico chiedo scusa mi dispiace se ho urtato la sensibilità di qualcuno chi mi conosce sa quanto tengo a questa città lo ha detto lo ha scritto anzi sulla sua pagina facebook ieri dopo che insomma erano cominciate ad arrivare alcuni messaggi polemici dopo aver postato questa fotografia appunto su su instagram tra l'altro con una colonna sonora sotto che è di sfera e basta che a qualcuno dice e scrive ricorda soprattutto qui a Senigallia il giorno più triste della città in riferimento alla tragedia della Lanterna Azzurra insomma tutta questo popò di roba per dirvi che insomma adesso a questo amministratore qualcuno sta chiedendo le dimissioni tutti i particolari sul giornale sul resto del calino di Senigallia poi lo sport invece a pagina 5 questa fotografia a destra dove è apparso questo striscione polemico nei confronti dell'amministrazione di Fano sono i tifosi che lo hanno lo hanno affisso c'è scritto AAA società e amministrazione cercasi fanno la rivolta dei tifosi il titolo un epilogo penoso i Panthers questa è stata l'estate peggiore della nostra lunga storia siamo stati derisi da tutta Italia in tutta Italia il club e la città meritano più rispetto tutto bloccato intanto sul futuro di questa squadra di calcio fanese con il presidente in pectore russo che in questo momento in questi giorni è in vacanza ma tra un mese lo ricordiamo inizia il campionato queste ed altre notizie sui quotidiani oggi in edicola noi ci fermiamo qui però per la nostra rassegna stampa ci ritroveremo questa sera alle 20 e 30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia auguri l'augurio ovviamente per tutti voi di trascorrere oggi una piacevole giornata e per chi si trova in vacanza anche una buona vacanza qui nella nostra bella Marche nella nostra bella regione Marche ci vediamo stasera arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.